it's answer time avete visto che effetti speciali la mia sigla oggi cercherò di dare delle risposte in uno dei miei video precedenti ho ricevuto un commento dall'amico giovanni facciotti che oltre a essere stato un mio cliente è anche un noto cantautore italiano per chi fosse un appassionato del genere vi lascio il link della sua pagina ufficiale come dicevo l'amico giovanni ha commentato un mio video chiedendo di realizzare un mio intervento che parlasse di come capire se un agente immobiliare fosse affidabile o meno questo è il tema che affronterò nel post di oggi purtroppo la risposta non piacerà né ai clienti né ai miei colleghi agenti immobiliari ahimè non si può conoscere o meno l'affidabilità di un agente immobiliare finché non ci si ritrova nella situazione in cui non si può più tornare indietro mi spiego meglio un cliente quando cerca casa sia essa in affitto o in vendita focalizza tutta la sua attenzione sull'immobile questo ve lo posso dire perché l'ho fatto anch'io recentemente quando cercavo casa in acquisto fondamentalmente i mezzi di comunicazione spingono il prodotto cioè l'immobile e non l'interlocutore cioè l'agente immobiliare una volta trovato l'immobile che ci interessa la prima cosa che facciamo chiaramente è quella di fissare un appuntamento una volta effettuato il sopra luogo con l'agente immobiliare questi diventerà il nostro unico interlocutore e da lì inizierà il processo conoscitivo che ci porterà a determinare se questo è un professionista serio o meno vediamo se posso darvi qualche trucchetto per capire se la persona con cui avete a che fare sia un agente immobiliare oppure un mediatore da quattro soldi una delle prime cose da fare ancora prima di andare in appuntamento è sondare il web alla ricerca di informazioni sull'agenzia immobiliare in oggetto se l'agente immobiliare vi risponde alle vostre mail con una mail personale tipo chiocciola gmail o chiocciolalice.it e non con un dominio registrato della propria agenzia già quello vi deve far accendere un campanellino d'allarme infatti chi non ha una struttura organizzata è più probabile che sia un mediatore che in caso di difficoltà può chiudere baracca burattini e spostarsi come zona operativa inoltre se alle vostre domande risponde in maniera vaga non fornendovi le informazioni precise dell'immobile come indirizzo o documentazione che qualsiasi agente immobiliare dotato di mandato in esclusiva dovrebbe avere è probabile che il vostro interlocutore non abbia né la documentazione dell'immobile che vi sta proponendo in vendita né un accordo preciso con la proprietà di esso e questo di sicuro è un problema in una trattativa di compravendita la seconda cosa da osservare sempre prima dell'appuntamento è quella dell'appartenenza o meno ad un marchio o ad una successione di categoria certo questo difficilmente vi farà capire se la persona che avete davanti è un agente immobiliare professionista o un intermediario da quattro soldi però solitamente le affiliazioni ad associazioni di categoria o noti brand dovrebbe garantire uno standard operativo che vi garantisca il minimo del servizio essenziale un'altra cosa da osservare una volta conosciuto l'interlocutore è quello di fargli domande sulla sua carriera sulla sua storia e sulla sua esperienza se un agente immobiliare ha cambiato cinque agenzie negli ultimi cinque anni o si è spostato in cinque città diverse è chiaro che questo deve iniziare a farci fare un ragionamento se invece la struttura dove opera è radicata nel territorio ed è una realtà stabile che opera da molti anni nella zona in cui state cercando questo può essere sintomo di una certa affidabilità voglio essere molto chiaro però l'affiliazione a un marchio o ad un'associazione di categoria o il fatto di non avere una struttura non significa che tutte queste persone non siano in grado di erogare un servizio adeguato ci sono agenti immobiliari che lavorano da vent'anni per un otto marchio e sono notoriamente dei pirla come ci sono tanti intermediari che non hanno un ufficio e lavorano come liberi professionisti ma sono sempre aggiornati e lavorano con una deontologia impeccabile quelli che vi ho dato sono dei semplici suggerimenti che vi possono mettere in guardia sull'operato di un qualsiasi professionista e non solo degli agenti immobiliari e quindi cosa dobbiamo fare noi vi starete chiedendo dovete lasciarvi andare al caso dovete sperare nella fortuna in realtà no fortunatamente con l'evolversi del nostro lavoro la possibilità di essere sempre seguiti al meglio c'è se avete conosciuto un agente immobiliare di fiducia del cui operato vi fidate nulla vi vieta di selezionarlo come agente immobiliare personale incaricatelo della ricerca anche dei futuri immobili anche se sono nel portafoglio di altre agenzie immobiliari sempre più frequentemente infatti le agenzie collaborano fra di loro quindi se avete trovato una persona con cui c'è feeling e avete stima e fiducia del suo operato una volta che avete trovato l'immobile di vostro interesse fatelo mettere in contatto con l'agenzia e sarà lui poi a fare tutto il lavoro necessario per concludere la trattativa ci sono agenzie che hanno fatto di questa filosofia il loro core business infatti non detengono immobili ma si occupano solo ed esclusivamente della ricerca di immobili per conto terzi oltre a questa soluzione segnalo anche che recentemente è nato un portale che si chiama weagents.com una sorta di trip advisor degli agenti immobiliari è un sito web dove gli agenti immobiliari possono iscriversi e possono essere valutati dagli utenti questo può sicuramente aiutare l'utente finale nella selezione del proprio professionista di fiducia spero che questa mia quarta puntata di prenda porta a casa possa essere utile a chi mi segue nel selezionare il proprio agente immobiliare personale dal vostro alessandro è tutto buona giornata